Come si spiega le continue provocazioni di Salvini? Sta facendo campagna elettorale, come dice il suo collega di partito, Irola, o è vicino lo strappo? Io non vedo nessuna provocazione e non vedo nessuna volontà di strappare. Semplicemente noi portiamo avanti le istanze come forze politiche, portiamo avanti le nostre campagne come due forze politiche che stanno insieme in un contratto. Ma ad esempio sul territorio, nelle elezioni regionali e anche nelle elezioni europee saremo l'uno contro l'altro. Quindi da questo punto di vista io non posso che apprezzare come si stia portando avanti il lavoro nel governo perché insieme io, Conte e Salvini una soluzione la troviamo sempre. Però non bisogna meravigliarsi che poi tra queste due forze politiche ci sia una competizione. Leale, ma c'è competizione, è normale che sia così. Io ora non so a quali provocazioni si stia resistendo. La TAV, poi Salvini ha detto che non voterò il radio di cittadinanza se le cose non vanno come... Poi alla fine come vedete le cose si risolvono tutte, non preoccupate. Grazie.